Per tutta la notte, vedere alle esigenze del personaggio, Anita Eckberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vikinga non teme il prezzo, ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la polla che, incuriosita si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane. Grazie a tutti.